Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Agropoli, su proposta del sindaco Adamo Coppola e del delegato alla cultura Francesco Crispino, è stata conferita dal consiglio comunale all'unanimità la cittadinanza onoraria della città di Agropoli al milite ignoto. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia e fatta propria dal Lanci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha proposto e sensibilizzato la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria da parte di tutti i comuni italiani. Tale iniziativa è collegata al centenario 1921-2021 della traslazione al vittoriano della salma del milite ignoto, un soldato senza nome, il cui corpo, ora sepolto all'altare della patria, fu scelto da una madre che perse il figlio durante la Grande Guerra, divenendo il simbolo di tutti i caduti in guerra. Un atto importante a cui tutti i comuni d'Italia sono chiamati e vuol far sì che questo cittadino, nostro nuovo cittadino, possa essere riconosciuto dopo cento anni che è rimasto ignoto. A seguito di questa sollecitazione da parte del generale Aiosa, il segretario generale dell'Anzi, Veronica Nicotra, ha sollecitato con una sua nota tutti i comuni d'Italia affinché adottassero questa delibera che vi invito a votare stasera, che riveste in questo momento particolare di pandemia una sua importanza peculiare, in quanto intende onorare anche tutti coloro che sono in prima linea per combattere questo insidioso nemico invisibile, mettendo a ripentaglio ogni giorno la propria vita e per far sì che possano essere tenuti uniti i valori legati alla nostra terra d'origine. La sua tomba dunque è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto che non sono mai stati identificati. Essa è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia, della festa della Repubblica Italiana e della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello del milite ignoto con la deposizione di una corona dall'oro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. La cerimonia di tumulazione del milite ignoto, che avvenne il 4 novembre 1921 durante la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, è stata tra le più importanti e partecipate manifestazioni patriottiche. Agropoli è tra i comuni che ha aderito all'iniziativa come segno di riconoscenza verso tutti coloro che si sono battuti per la difesa della patria, uomini e donne che non hanno esitato a rischiare e a sacrificare la propria vita per mantenere fede agli ideali di pace, libertà e democrazia. Grazie. Grazie. Grazie.